Sì, non abbiamo fatto bene, abbiamo preso anche due gol su due punizioni a nostro favore a metà campo, però può capitare di non giocare bene, dobbiamo guardare avanti alla prossima partita perché il campionato non è che sta lì, non possiamo piangerci addosso per una sconfitta che tra l'altro è meritata, perciò vuol dire che abbiamo fatto degli errori e li dobbiamo evitare per quello che c'è possibile già a partire da domenica. Non per cercare scuse, ma possiamo dire che il grande sforzo della partita di domenica, che è stata una partita sui ritmi altissimi, quella con la Cremonese, può darsi che il Pisa l'abbia pagato? Non mi piace parlare di queste cose perché, ripeto, quando non si gioca bene sarebbe facile cercare la scusante, noi abbiamo sbagliato sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista tecnico, non abbiamo capito bene che tipo di partita era e questa è anche mia responsabilità ovviamente e perciò non accampo la scusa della stanchezza perché anche le altre squadre giocano le nostre partite. Hai cambiato qualcosa rispetto alla formazione di domenica, cambi anche dovuti alla stanchezza a dover gestire un po' le forze? Sì, sì, qualcuno sì, qualcun altro, tipo Beruato, non è stato bene questa notte in albergo, altri invece sono stati cambi tattici, un po' per la stanchezza, un po' per il tipo di partita che volevamo giocare. In pratica una giornata in meno, là davanti più o meno la situazione è rimasta la stessa, domenica arriva la cittadella all'arena. Sì, è vero, però io penso alla mia di partita che non abbiamo giocato bene e dunque dobbiamo partire subito con l'idea di fare una partita totalmente diversa domenica a pomeriggio con il cittadella in casa.